Ansaldo Breda a novembre rischia la chiusura. Cosa sta facendo la politica per questo stabilimento industriale? Il governo nazionale non può assecondare lo spacchettamento di Ansaldo in pezzi che penalizzano poi alla fine lo stabilimento siciliano e lo stabilimento di Reggio Calabria. Invece dovrebbero interrogarsi sul perché e sul per come. Oggi tutte le attività di Trenitalia che dovrebbero dare valore aggiunto all'azienda ferroviaria italiana la sta facendo l'Astom e Bombardier. Mentre a Carini hanno portato solo la ristrutturazione e il revamping delle vecchie carrozze. Sarebbe opportuno invece di pensare allo spacchettamento di Ansaldo di pensare di trovare un accordo con Trenitalia che dia respiro e ce n'è tanto di bisogno alle ferrovie italiane e alle strutture e alle carrozze che circolano in questo paese. E questo appello non va fatto solo al governo nazionale ma anche al governo regionale. Oggi il governo regionale dovrebbe fare un piano trasporti per ristrutturare le linee e le carrozze che viaggiano in Sicilia perché ce n'è altamente necessità. E affidate all'azienda italiana sicuramente contribuerebbero a risolvere i problemi dell'Ansaldo. Noi oggi cogliamo il rischio veramente di fra un mese terminare le attuali commesse. Se non rimane l'azienda delle ferrovie in Italia, l'azienda che costruisce per le ferrovie in Italia, noi rischiamo veramente di essere tagliati fuori. Grazie. Grazie. Grazie.